National Geographic quest'anno ha avuto due novità, una National Geographic Expeditions di cui si è parlato molto in queste sere, l'altra National Geographic Traveler perché il gruppo editoriale Jedi con il sottoscritto e insomma una banda di matti ha detto facciamo un giornale di carta, cosa che è vero Mario, non è più una cosa che va da tantissimo di moda di questi tempi. Il 28 di settembre andiamo in edicola con il numero 2, numero 2 in cui vedete parliamo di Langhe, ma parliamo di Langhe e non solo. Ha tra i suoi autori Mario Calabresi con una rubrica che si chiama Leggermente fuori fuoco, Mario inviato e corrispondente di Repubblica prima di diventare direttore della stampa e poi direttore di Repubblica, è un grande viaggiatore e gli va di raccontare quelle che sono le sue storie però sei partito da casa parlando di Langhe e da lì partirei. Buonasera a tutti, sono partito da casa anche perché questo numero c'è una copertina italiana, mi sembrava giusto restare in tema. Io ho vissuto a lungo in Piemonte quando ho fatto il direttore della stampa ma mi piaceva recuperare anche delle memorie, di luoghi, io sono di madre piemontese, di nonni piemontesi che vengono da una zona che si chiama il Roero e che è dall'altro lato del fiume del Tanaro rispetto alle Langhe e che è una zona dal punto di vista come nome meno famosa delle Langhe. Allora io volevo dedicarmi alla Langhe, se vogliamo dire così, sconosciuta, a quell'altro pezzo di Piemonte. È un pochino come Pompei e Arcolano, tutti sanno di Pompei e Arcolano un po' più dimenticati. È un buon esempio, però nelle Langhe ci sono le cose più importanti per cui sono famose nel mondo, sono i tartufi e i tartufi ci sono anche nel Roero. Nelle Langhe c'è il Nebbiolo come uva, regina, ha due declinazioni che sono il Barolo e il Barbaresco e anche nel Roero c'è il Nebbiolo che però si chiama o è Nebbiolo in purezza o è il Roero ed è un vino altrettanto valido anche se meno famoso. Ma io ho una passione per questa zona perché ci veniva mia nonna e i genitori e i nonni di mia nonna producevano vino lì e quindi mi ha tramandato tutto quello che è la storia di quei posti. Io ho fatto, devo dire, una rubrica, l'ho interpretata in maniera molto personale.